Qua facciamo una passeggiata turistica archeologica. Allora, qua c'è un ammasso di sassi di dietro e pieno di reperti archeologici. Vedete? Qui hanno venuto a scavare. Forse con il metallo del territorio. Gli scavi si videnziano perché sono più chiari le pietre. Qui dove sono gregge significa che non sono state movimentate. Guarda quanta roba c'è qui. E c'era una città qua. A pietra, a pietra, a pietra. Guardiamo qui sotto. Qua non sono state rimosso le pietre. Però affiorano superficialmente tutti i reperti archeologici. Continuiamo di qua. Stada facendo. Guarda quanto è bello il panorama. Il panorama è bellissimo. Dai che c'è la pallona moretta. C'è stato il Montebello l'ho stato l'anno scorso. Un'anghello per ieri. E ora vedete? Vabbè ci ne stanno per grandi. Uno per il volo. Andiamo di qua. Ecco l'altro reperto. Questo è del ferro. Prima se lo sanno i ferri. E chi? Si vede? I zingati. Questi avevano 50 anni. Stanno buttati qua. I ferri per la palla. E anche qui è pieno di le pietre archeologici. E qui c'è una montagna da terra. Guarda. E si avrà 50 anni. Comunque dove ci sono questi ammassi di pietra. Tutta il drone archeologico. Eccola qui.